Nel video di oggi, abbiamo una lieta notizia che farà sorridere molti. Albano Carrisi e Loredana Leciso potrebbero presto appendere un bel fiocco rosa o azzurro alla loro porta. Prima di proseguire, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nostri video e le ultime news. Albano e Loredana sono insieme da ben 24 anni, legati da un amore solido che ha saputo resistere alle sfide del tempo e alle provocazioni. La loro relazione, pur attraversando alti e bassi, ha sempre dimostrato una forza incredibile. Loredana, negli ultimi anni, si è allontanata dalla televisione, rifiutando anche l'opportunità di partecipare all'Isola dei Famosi, per restare vicino ad Albano e dedicarsi completamente alla famiglia. Loredana ha spiegato il motivo per cui non si sono mai sposati con queste parole, ho detto no per restare con Albano. Abbiamo pensato alle nozze, ma sentirci sposati mentalmente è la sensazione d'amore più intensa che possiamo provare. Nonostante non abbiano mai formalizzato il matrimonio, i loro sentimenti continuano a crescere, rendendoli una delle coppie più amate del panorama italiano, grazie alla loro autenticità e complicità. Recentemente, sui social è emersa l'indiscrezione che Loredana potrebbe essere incinta, con il bebè atteso per gennaio 2025. Questa notizia ha immediatamente acceso l'interesse dei fan, anche se al momento rimane solo un rumor. La coppia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma i fan sono già entusiasti all'idea di un terzo figlio e seguono con trepidazione ogni aggiornamento, dimostrando grande affetto e supporto. La relazione tra Albano e Loredana, sebbene non priva di discussioni, è caratterizzata da un amore che sembra più forte che mai. Questa coppia, pur non essendosi mai sposata ufficialmente, si considera mentalmente sposata, vivendo un'intensa sensazione d'amore che li unisce profondamente e li rende felici. La speranza è che nei prossimi giorni ci siano ulteriori notizie sull'argomento gravidanza e sull'evoluzione della loro storia d'amore. E tu, cosa ne pensi di questa possibile gravidanza? Pensi che abbiano l'età giusta o che abbiano aspettato troppo? La differenza d'età con gli altri figli è eccessiva? Faccelo sapere nei commenti. Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i prossimi video e le ultime notizie.